Grazie a tutti. 16 aprile 2016. Grazie a tutti. Quale è il tuo primo piano? Ebbè, ci sto rientrando qua, è la nostra portavoce. Come ti vorrei chiamare? Sì, da questo è buono. No, sì, da questo è buono. No, sì, da questo è buono. 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 Siamo veramente con l'accoglienza, con la partecipazione di tutti, non solo del nostro gruppo, ma di chi generosamente ci ha offerto questo locale, questo insospettabile e improvviso dono che c'era veramente utile. Io sono emozionata, ringrazio tutti per essere qui e auguri a tutti noi. Grazie. 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 Grazie.